Tante volte mi è stato chiesto qual è il tuo film preferito, ma mai prima di oggi mi avevano chiesto il perché. Credo che difficilmente si cambi la risposta alla prima domanda. Può essere la stessa per tutta una vita. Ma il perché un film in particolar modo segna così la propria esistenza, beh, questo può cambiare. Il mio film preferito ha degli elementi immortali, riesce però a far vivere in me emozioni diverse ogni volta che lo vedo. Ogni volta scopro che il film si adatta a me, ogni volta mi identifico in un personaggio diverso, ogni volta piango o rido per una sfumatura che non avevo notato. Superfluo dire il nome del film, quando posso citare parole come una panchina, una voglia di correre, dei gamberetti, Jane che suona la chitarra, il tenente Dain, una scatola di cioccolatini. E sono sicuro che in ognuno di voi queste parole faranno rinascere ricordi ed emozioni diverse.